Si avvicina il via della quarta edizione della Bergamo La Mia, siamo con Mauro Zinetti, l'organizzatore, insieme a tutto un gran gruppo di lavoro che è pronto per un nuovo appuntamento, sempre con grandi novità. Sì, siamo un bel gruppo di 20 persone, le teste pensanti della Bergamo La Mia, ognuno con il proprio ruolo organizzativo e siamo pronti, siamo pronti per raccogliere l'11 giugno la quarta edizione della Bergamo La Mia. Preceduta da una notte particolare che il centro di Gazzaniga sarà vestito a festa? Sì, la sera del 10 giugno a Gazzaniga, dalle ore 19, una bellissima notte gialla con il coinvolgimento dei commercianti, degli alpini, delle associazioni del paese, l'amministrazione in prima linea. Ci consente di accogliere i partecipanti della quarta Bergamo La Mia, non solo, ma una bellissima serata con concerti, sfilate, tanto intrattenimento per un inizio di estate pieno di allegria. Come stanno andando le iscrizioni e come iscriversi? Allora, le iscrizioni stanno andando bene, siamo ormai intorno ai 1500 iscritti, il modulo, la modalità di iscrizione è quello di andare sul sito internet www.bergamolamia.eu, in alto a destra c'è scritto iscriviti adesso, da lì si entra in un portale specifico Endu e da lì poi si caricano tutti i documenti necessari per iscriversi alla Bergamo La Mia. È sempre qualcosa di speciale per chi la affronta, non è una vera gran fondo, non c'è tutta questa competizione, c'è la possibilità di vivere il territorio con la giusta calma. Sì, quando abbiamo iniziato ad organizzare la Bergamo La Mia abbiamo scelto un format diverso rispetto alle gran fondo tradizionali che ci consente di trovare un giusto equilibrio tra la parte agonistica e la parte cicloturistica. Per noi è fondamentale valorizzare il territorio, dare la possibilità ai partecipanti di vedere, di guardare il territorio circostante, ma al tempo stesso di offrire la possibilità di dare quel tocco, quel sale, quel pepe agonistico in alcuni tratti della manifestazione. È un format vincente che vediamo che alla gente piace e soprattutto anche in termini di sicurezza ci dà la modalità di ridurre notevolmente il rischio di cadute e di guasti perché comunque anche i tratti in discesa vengono percorsi non in forma agonistica e quindi in maniera molto più tranquilla. Quali saranno i percorsi? I percorsi sono tre, il curt, il corto, il mezzo, il medio ed il long, il lungo di 72 km, 110 km e 182 km. Il percorso lungo è veramente molto suggestivo e duro perché comunque propone più di 3.000 metri di dislivello, percorre il Selvino, Passo Zambala, Presolana, andremo in Val di Scalve ad onorare il centesimo anno della caduta del Gleno e poi andremo a Schilpario, tutta la via Mala, si ritorna sul lago di Lovere, poi il lago di Endine e quindi Ranzanico e si scende a Cenega, a Zaniga per il finale. Uno dei vostri top sono i rifornimenti dove non manca il pane salare, qualche tradizione bergamasca. Assolutamente sì, il ristoro per noi è un momento veramente molto importante per tanti motivi. Il primo motivo è quello che il gruppo di amici si può ricompattare dopo il tratto cronometrato, quindi al termine del tratto cronometrato c'è sempre un ristoro, gli amici si possono aspettare per quei 5-10 minuti, ricompattiamo il gruppo e poi si prosegue per un tratto cicloturistico. Ogni ristoro è una festa perché si trova da mangiare, da bere e tanto intrattenimento, con musica, spettacoli e quindi il ciclamatore può aspettare i propri amici per quei 5-10 minuti e comunque essere intrattenuto da qualcosa di piacevole. Grazie.